Buonasera Londra, c'è un detto che dice che non si ingrassa da Natale a Capodanno ma da Capodanno a Natale e vuol dire che alla fine pochi giorni rispetto ai 365 giorni dell'anno contano veramente poco. Ma è realmente così? Dobbiamo aver paura del periodo natalizio per mettere su peso? Scopriamolo! Iniziamo subito col dire che statisticamente per la popolazione meno attenta all'attività fisica e a quello che mangia il periodo natalizio è il momento dell'anno in cui acquistano il peso. Purtroppo poi questo peso acquistato lo manterranno nel resto del periodo dell'anno, proveranno un po' a dimagrire durante l'estate ma tra entrate e uscite comunque è il periodo natalizio quello dove la popolazione sedentaria ingrassa di più. Per quanto riguarda invece chi fa più attenzione all'alimentazione e si allena deve aver realmente paura di questo periodo? Allora proviamo a vedere dati alla mano che cosa succede nel nostro organismo. Iniziamo subito col dire che prendere peso non equivale per forza a ingrassare come perdere peso non equivale per forza a dimagrire. Quando noi dopo una serie di abbuffate pesiamo 2-4 kg in più abbiamo sicuramente una componente di acqua perché il nostro corpo tende a trattenerne di più e quello che abbiamo mangiato, quindi il peso degli alimenti, rimane nel tratto digerente per diverse ore e anche più di un giorno. Quindi il peso accumulato sicuramente non è in buona parte grasso, ma realmente un eccesso calorico quanto ci può far ingrassare? Dipende dall'eccesso calorico. Ammettiamo che durante il periodo natalizio noi abbiamo 3-4 cene in cui sforiamo il nostro fabbisogno calorico giornaliero di 2.000, 2.500, 3.000 calorie che se andiamo a vedere i cibi che normalmente si mangiano in questo periodo non sono neanche delle calorie così eccessive. Ci possiamo rendere conto che facilmente queste poche abbuffate possono portare a un eccesso energetico di 10.000-12.000 calorie che equivalgono sicuramente a più di un chilogrammo di grasso, possiamo quasi arrivare a 2. Ora se ipotizziamo che abbiamo un eccesso calorico dato da questo periodo di 10.000 calorie vediamo un po' le strategie che ci possono aiutare per superare indenni il periodo natalizio. È tanto facile per la maggior parte della popolazione ingrassare rispetto a dimagrire perché noi riusciamo a creare un eccesso energetico di 10.000 calorie facilmente in 4 pasti. Mentre per perdere 10.000 calorie se abbiamo un deficit energetico al giorno di 500 calorie ci vorranno 20 giorni. Quindi abbiamo 4 pasti contro 20 giorni per tornare a equiparare il bilancio fra entrate e uscite. Proprio per questo per le persone è difficile perdere peso perché rimangono a dieta tanti giorni e poi con una buffata in cui assumono 2500 calorie rischiano di sprecare tanti giorni passati. Una buona strategia così se vogliamo diluire l'eccesso energetico durante il mese è magari quello di trattenersi 10 giorni prima del periodo delle feste e di stare a dieta 10 giorni dopo. Così i nostri 20 giorni in cui abbiamo creato un deficit di 10.000 calorie li abbiamo spalmati e non abbiamo sofferto eccessivamente. Quello che poi possiamo fare se noi abbiamo un fabbisogno energetico di 2500 calorie è non arrivare a cena, alla vigilia che ne abbiamo già consumate 1500 ma magari ci siamo tenuti leggeri durante la prima parte della giornata ne abbiamo assunte soltanto 500 così abbiamo ancora 2000 più l'eventuale eccesso da dedicare alla nostra cena. Lo stesso faremo il giorno dopo al posto che assumere 2500 calorie possiamo fare una colazione più leggera per diluire l'eccesso energetico che abbiamo preso la sera anche il giorno successivo. Chi segue il project Invictus sa benissimo che nell'acuto, non nel cronico, nell'acuto una delle cose che fa ingrassare di più è avere i carboidrati alti assieme ai grassi perché l'insulina stimolata dai carboidrati anche se mangiamo i grassi lo stesso non riusciamo a tenerla a bada e quando l'insulina è alta tutto quello che mangiamo lo dirige gli acidi grassi verso il tessuto adiposo e non quello muscolare. Una buona strategia è così cercare in queste cene di mangiare prevalentemente carboidrati perché i carboidrati quando sono in eccesso il corpo non li converte tutti in acidi grassi ma la maggior parte li dissipa in calore. Quindi soprattutto se vi allenate e quindi magari se il giorno prima, le ore prima della cena vi avete depletato le vostre scorte di glicogeno conviene fare questi pasti, questi sgarri prevalentemente glucidici. Mentre i lipidi quando sono in eccesso per forza si depositano, quelli che assorbiamo, i glucidi ricordiamoci che quando sono in eccesso facilmente si convertono in calore e non in nuovi acidi grassi. Questo avviene ancora di più se abbiamo fatto allenamenti glicolitici in cui abbiamo svuotato le nostre scorte di glicogeno muscolare e l'introduzione di un pasto glucidico andrà a supercompensarle. Insomma possiamo trasformare queste cene, queste sgarre, in quasi delle ricariche. Per concludere tutto quello che abbiamo detto non deve essere letto con un atteggiamento ortoressico, quindi troppo maniacale. Il cibo dà anche gratificazione, è giusto che sia così, soprattutto durante le feste in cui condividiamo questi momenti in famiglia e con gli amici. Quindi va bene programmare, va bene cercare di limitare i danni, ma va bene anche godersi la vita. Insomma il detto con cui abbiamo iniziato il video, per cui non si ingrassa da Natale a Capodanno, ma da Capodanno a Natale, è in gran parte vera. Se noi vogliamo prenderci questi giorni per staccare, perché no? L'importante è che sappiamo poi quali sono i passi per rimetterci in forma e per riprendere l'anno nel migliore dei modi. Buone feste a tutti, se volete che Babbo Natale vi porti i regali, mettete la campanella se siete su YouTube o condividete su Facebook. Grazie e ancora buone feste! Grazie a tutti!